Grattacapi mattutini. Mi alzo assai per tempo. Oggi lunga è la via che mi attende. Penso con sospetto quale sarà stata la mia sorte notturna, tra coltri non immacolate. La fauna intima del paese mi appare adombrata nei poetici appellativi scientifici. Il pulex irritans saltellante, il cimiex lectularius, piatto, rosso dopo il pasto, ributtante, che passa la giornata a digerire e si mette in caccia appena notte. Nessun ostacolo l'arresta e non ha paura, guidato forse da un odorato pari alla sua puzza, di lasciarsi cadere dal soffitto per venire nei posti preferiti ad infiggere il suo rostro acuto, cosparso di umore e salivare irritante. Mi toccavo il capo quasi dovessi trovarvi il pediculus cervicalis, l'amabile bestiolina che gli ottentotti, gli aleuziani e i negri della cafreria considerano un regalo e che si offrono gentilmente null'altro. Sebbene, poi, non avrei dovuto lamentarmene troppo. Non sono ancora duecento anni e molti la credevano aperitiva e febrifuga. Appena fuori di soveria si sale in una valletta, tutta verde, piena d'acque che fecondano un terreno ricco, tutta gorgheggiare d'uccelletti che nell'alba salutano il sole che sta per brillare. A 940 metri raggiungo il culmine e comincio a calare nella valle del Savuto, valle selvaggia che d'un tratto mi riporta, per così dire, nell'alta Lombardia, anzi in qualche braccio laterale della valtellina. Le rocce sono schisti micacei grigi, argentei o rossicci, luccicanti nell'umidore come specchietti tra le querce e i faggi. Oltrepasso una carrozza, la prima che incontro da pizzo. Giù nel fondo valle, a un gomito della strada, nascosto tra gli annosi alberi, ecco un gruppo di sette carabinieri, intorno a un brigadiere che impartisce ordini. Diavolo, c'è qualche cosa? Mi fermo e interrogo. Mi rispondono che sono matto, che il paese è sicurissimo. Forse che lei vi ha già armato? Certo, rispondo, ho il revolver. Allora avrà anche il relativo porto d'armi? Certo che sì, ce lo faccia vedere. In sostanza, l'individuo più sospetto nei dintorni pare che fossi io stesso, perché subì un interrogatorio in piena regola. Meglio Calabria o Svizzera? Dall'altro lato della valle una dolce e lunga salita mi riporta, sempre all'ombra dei castagni, dei faggi e dei frassini, a novecento metri. Poi ecco una tremenda discesa. Stupendo l'intreccio ad Andirivieni dei Tourniquet, i quali a dozzine si inseguono fino al basso ad un gran ponte sul Savuto, più di seicento metri di dislivello. Mi ricordano la Maloia, sopra Casaccia, e lo Stelvio, a Franzenzoe. Quanto lontani, quanto diversi e quanto diversamente belli. La diligenze, chalet e rompiscatole, coi mazzetti di Eterweiss e alberghi sontuosi, abeti e ghiacci e lunghe file di alpinisti e di tartarini. Qui la solitudine. Qualche donna con l'anfora in capo, che si può scambiare per una statua greco-romana. Qualche lavoratore dei campi col pizzutello in testa. Qualche pastore severo. Il corpo ravvolto di pelli come un precursore. E i chilometri che si debbono divorare per non basir di fame in strada. Oh, alberghi e buvette seminati ad ogni passo, quanto siete comodi, ma quanto togliete del suo aspro e selvatico sapori di frutto vergine alla corsa nella selva. Il viso al vento, il coraggio in cuore, le forze dello spirito raccolte a sussidio del corpo. natura selvaggia, bagno vivificante di libertà, solitudine, preziosa ispiratrice d'alti pensieri, tempera del carattere nei contrattempi inattesi che tu riservi. Quanto poco siete conosciute e amate dei nostri ciclisti e quanto potete loro insegnare nel vostro muto ma convincente linguaggio. Così, fantasticava scendendo a precipizio. Ma lo spirito si calmava d'un subito attaccando la salita dall'altra parte del ponte. Da 280 metri si va a Rogliano che è a 700. Più avanti, passato il torrente Calabrici, si entra nel piano del lago. Un vasto tavoliere lungo 4 chilometri che è tutto un lago fiorito di lino. Il delicatissimo fiorellino azzurro, in cima allo stelo verde, simula da confondervisi l'acqua di un lago alpino. È una dolcezza e un riposo per l'occhio, placido quadro di una tavolozza gentile che fa riscontro piacevole a tante scene graziose vedute prima. Dopo il piano del lago una discesa pittoresca, ancora 400 metri di dislivello, sopra Cosenza. È una volata ed entro in città alle 10 e mezza. Cosenza, rieccomi in paese civile. Me ne accorgo subito. Chiedo l'albergo dei lionetti. Un giovinotto si proferisce e mi conduce francamente. Là domando la mia posta e i miei telegrammi, ma non c'è nulla. Mi hanno condotto, e a bella posta si intende, in un altro sito. Cosenza, come tutte le città calabresi, offre ben poco di interessante. Nella mia fermata di un'ora facevo però in tempo a notare questo. La pavimentazione è quasi dappertutto orribile. Il bicicletto non vi può procedere che lentissimo. Macchine ve ne saranno, ma non ne ho viste. Certo non sono in quantità ingombrante. Pure la circolazione è totalmente proibita. ecco, a vedere questi misoneismi generali in tutta Italia, mi viene in mente un dilemma. O i ciclisti sono imbecilli e non li fanno consiglieri comunali, altrimenti non sarebbero approvati certi regolamenti. oppure questi regolamenti provano che si fanno consiglieri di preferenza molti in... basta, lasciamola lì. Un paese per Buffalo Bill. Uscendo da Cosenza, la strada, meno ben tenuta che nel percorso precedente segue per 40 chilometri il corso del Crati, il maggior fiume calabrese. In certi luoghi se ne allontana per varcare speroni di montagne, che si protendono verso il Talweg, ma in generale è quasi piana e attraversa un paese curiosissimo, interessante in sommo grado, selvaggio più del più riposto angolo delle maremme toscane. Immense macchie totalmente deserte coprono la larga valle, macchie dove predominano lontano la Betulla, la Sabinia e la Canna Palustre, ove, dappertutto, come nelle Yangade brasiliane, l'acqua c'è o corrente o stagnante o visibile o nascosta. Non una casa, non una persona nel lungo tragitto. La strada, silenziosa, passa talvolta per chilometri nell'ombra del bosco. I rami le si riuniscono di sopra e fanno volta. A un tratto sode al fianco, nel folto dei cespugli, un rumore improvviso di bestie che si levano, uno scalpitare furioso, il rimbombo del galoppo di uno strupo di dieci, di cinquanta, di cento cavalli spaventati dalla bicicletta, che si tolgono al tranquillo riposo e fuggono in gruppo. Dei cavallini, saltellanti sulle lunghe gambe magre e graziose, il collo il suuto per l'incolta criniere nascente, si affacciano curiosi e buoni, come bambini sorpresi alla proda del bosco. Più lontano, in una radura aperta, pasce una mandria di buoi dalle lunghissime corna divergenti. Poi è un canneto fittissimo e alto, addossato alla strada, come nel viale di una villa a due siepi impenetrabili di bambù. Odo uno sbatterdali pesante. Guardo in alto, passano ridicoli nel loro volo sciatto dei grossi trampolieri. Il collo teso e tirato avanti, la coda piccola raccolta sotto il ventre, le lunghissime zampe penzolanti come i contrappesi di un orologio. Poi ecco una distesa d'acqua pantanosa. Fiori gialli e bianchi nel mezzo delle larghe foglie galleggianti di ninfea, pari a foglie di zucca. Praterie verde pisello di lenti palustri, qua e là aperte dal tuffo di rane e di rospi. Uno stormo di anitre si leva, sbatte le ali, radendo con le palmate zampe le acque tranquille e si posa più lontano. Dalla melma emergono teste colossali di bufali, che se ne stanno a ruminare il corpo nascosto nella mota, teste sciocche e spaventose che si direbbero di bisonte, corpi neri, gibbosi e glabri, che paiono i popotami. E guardano la bicicletta a venti, a cento, immobili, le corna volte in avanti, forse innocenti, ma che danno l'ali alle ruote. Lunghi tratti sono coperti da sabine. Questa conifera curiosa, un po' simile nell'aspetto al ginepro, contorta, ramosissima, forma un tale intricato ammasso di frondi che nessuno può attraversare i terreni da essa coperti. Il suo colore scuro e melanconico, il profumo acuto, la monotonia del portamento, rendono caratteristici questi boschi di sabinie, che paiono cimiteri dove si è accadute in polvere anche le tombe. Talvolta sono rilevati da qualche macchione di tasso, la pianta della morte, letale agli equini, pianta triste, quanto il salice di Babilonia e Cuba più del cipresso. Una scena nella macchia, la pietà di un medico. La ferrovia corre anch'essa sul piano. Ad un passaggio a livello, una carrozzella è ferma e un tipo di buon amicone che è dentro, grosso rubicondo, mi interpella porgendomi un bicchiere divino. Alla vostra salute! È il medico della ferrovia che attende un malato. Ora non vi sono febbri qui, mi dice. Vengono solo dopo luglio e allora sono terribili. Ma intanto dalla macchia ecco sbucare un triste corteo. Sono quattro uomini che portano una barella. Su questa dello strame, sullo strame un'ombra d'uomo che batte i denti e trema tutto come paralitico. Avrà 40 anni, la barba e i capelli incolti, l'aspetto feroce e miserando, l'abito lercio, forse da mesi non mutato. Terribile nel ritmo duro e rapido dei suoi sbattimenti che nulla hanno di cosciente e pertanto vanno più paura. Solo gli occhi ardono sotto le grigie folte sopracciglia. Magro come uno scheletro, le ossa si disegnano pungendo la pelle arsa e gialla. È ancora come l'altra volta, dice il medico dopo un momento, senza scendere di carrozza e col bicchiere in mano. Dorme? Gnornò? Mangia? E che può mangiare? Non c'è che continuare, conclude il dottore porgendo un pacchettino di chinino. Forse se la caverà. La scena brutale e raccapricciante termina così. Il medico si dispone ad andarsene, la barella a essere portata d'onde viene, con la sua vittima. Null'altro, non un atto o una parola di più. Io tremo di sudore e ghiaccio. La suprema indifferenza di tutti per un morente, in una cornice così simile a un cimitero, mi rivolte e mi opprime. Quanta miseria morale! O forse quanta provvidenza in quel filosofico, incosciente disprezzo della vita. Due fabbri e un carretto, ma via. Continua il cammino. Il cinematografo gira e non mi dà riposo. Dopo la macchia della tavola, dove si abbandona la Valle del Crati, ecco la salita di Tarsia. Il paese è 150 metri più su, pittorescamente assiso sulla cima di un cono di arenaria cinerea, sul quale la strada si arrampica come un serpente su di un albero. Dal verde della pianura emerge il bianchissimo colle, vivo ed allegro nella festa del sole d'ardeggiante. Man mano che salgo a fatica, i sentieri da capre che intersecano il poggio fra braccio e braccio dei turnichè, si popolano di vispi ragazzi che gridano a squarciagola. La ferrovia! La ferrovia! Passo sotto il paese formicolante di curiosi che mi osservano stupiti. Più avanti vedo la traccia di una fonte. La seguo e arrivo alla povera fontana. Mi fermo a mangiare pane e zucchero col condimento prezioso dell'acqua. arrivano di corsa trafelati due giovani fabbri che stanno trasognati a toccare e contemplare la macchina. La gomma par loro di pesce al tatto. Li colpisce la sottigliezza dei raggi. Non riesco a spiegar loro l'appoggio dei perni sulle sfere. L'idea torna ad essi troppo nuova. Chiamano il manubrio. Dico loro di alzare la ruota davanti tenendo il manubrio sollevato e le faccio girare rapidamente. Prima si smascellano dalle risa vedendo quanto è scorrevole ma poi siccome non si ferma mai si fanno seri e posano la macchina prima che la ruota cessi di girare con un'aria interdetta. In fondo credo vi debbono trovare qualcosa di diabolico. Parto e continuo a salire. Il panorama si fa più vasto. Non conosco paese come questo dove ad ogni mezz'ora la scena muti e dove lo scenografo abbia tante risorse di novità nel disegno e nel colore. Tocco i 400 metri e mi dirigo in dolce discesa verso Spezzano Albanese. Un carretto con un povero mulo e cinque persone sopra corre davanti a me. Avverto perché sorvegliano la bestia ma non se ne danno per intesi. Non sanno neppure che i muli si spaventano con la bicicletta. Invece gridano e sghignazzano allegramente nel vedermi passare a fianco. Ma dietro di me odio il mulo restato un momento indeciso lanciarsi a un galoppo scomposto. Mi arrivano delle grida di spavento, un urlo di donna, poi un tonfo sordo. Mi volto il carretto rovesciato in un piccolo fosso sul fianco della strada, col muro e le persone al rifascio. Mi viene freddo ma che fare? Mi fermo, scendo di sella e torno indietro pronto ad adoperare. A seconda le parole calmanti o il revolver per difendermi. Chi lo avrebbe pensato? Quella buona gente visto che nulla c'era di rotto né carro né bestia, né persone, neppure inveiscono con male parole. Ma si contentano di guardarmi trasognate come a dire. Ma che diavoleria c'è capitata? E noi diciamo che i briganti sono in Calabria. Ciclisti. Se un caso simile mi fosse capitato tra Milano e Monza. Sibari. Attraverso di corsa spezzano albanese, subito fuori del paese un meraviglioso panorama si affaccia. Quello della valle del coscile. Si immagini un piano tutto verde che finisce al mare. Di qua e di là due catene di montagne. Verdi alla base, grigie di rocce a mezzo, bianche di nevi sulle più alte vette. I due banchi picchiettati di paesi e cittadine solitarie. Il piano sbocca al mare che incontra con un arco di cerchio regolarissimo di 50 chilometri. È un mare di un azzurro intenso d'acciaio temperato, quasi nero. Agitato certo in questo momento perché fin da qui si vede l'orlo bianco della mareggiata sulla sabbiosa sponda. È una vastità incommensurabile, una sinfonia di colori e di linee. Mi ritorna alla mente l'ingenua proverbiale esclamazione di Hans Grass arrivato in cima al disgrazia. Dio quanto è mai bella la tua creazione, né pur mancano i ricordi che ci fanno pensosi. Laggiù, dove crati e coscile confondono le acque, fu un tempo sibari. Altre meraviglie. Mi tolgo a malincuore alla contemplazione e classifico nella mia mente questo panorama insieme a quello di Taormina e dell'Epumeo. E corro, corro perché ancora debbo oggi scendere sino al coscile, attraversare la vallata, risalire dall'altra parte a Castrovillari. Al di là della vallata ricomincio a salire. Sono ancora 300 metri da montare. Ma come accorgermene? Intanto è sempre nuovo incanto. Appena fuori del piano, ecco per due o tre chilometri, da una parte e dall'altra della strada, la vista quasi intercettata da una fitta siepe di agavi. Le alte spinose foglie a cartoccio, così eleganti, carnose, quali tutte verdi azzurro, quali bordate di bianco, formano cespi colossali di effetto bizzarro. Alcune spingono su il più maccio alto 5 metri dei loro fiori. Poi vengono delle siepi in fiore di prugnoli, spin bianco, ginepri, rovi tutti rosei, convolvoli, fichi d'india dalle pale ornate di petali porporini e giallo cromo. Passano due carabinieri a cavallo e mi fermo a domandare notizia della sicurezza. Non capivano neppure. Credevano che chiedessi di qualcuno. Non pareva lor vero che si potesse temere che il paese non fosse sicuro. Salgo sempre nella gloria di un tramonto di fuoco. Il mare non si più, nascosto dagli speroni del monte Pollino e delle sue propaggini. Alcune cime hanno evidentemente il carattere dolomitico. Delle nubi si addensano verso il Pollino, qualche lampo comincia a solcarle, lontani brontolì di tuono mi giungono all'orecchio. Entro nel piano che si estende davanti a Castrovillari. Dall'ampia campagna sboccano sulla strada carovane di lavoratori che tornano a casa, quasi tutti su carretti, su muli o cavalli. Dei piccoli ciucherelli portano tre fin quattro ragazzi. Altri ragazzi corrono dietro i cavalli, attaccati con la mano a un ciuffo della coda, sgabbettando allegramente. Il temporale imminente fa a tutti allungare il passo. Tre cavalieri di conserva con me spronano cercando di oltrepassare la bicicletta. Ah, se non fossero state le raffiche di vento contrario e le piccole salite. Ma dov'è piano? O se il vento mi aiuta, riguadagno il terreno perduto. Sventolano i mantelli all'aria, volano nubi di polvere dalle ferrate zampe. Io dimentico salite, chilometri e vento e curvo sulla macchina di voro l'ultimo chilometro, lasciandomi addietro i cavalli tra le acclamazioni di tutti. Ma sul secciato di Castrovillari un rumore anche più forte copre le acclamazioni. Le nubi hanno aperto il grembo. Cade un acquazzone diluviale. Conversazione seria. Passo la sera con un capitano dei carabinieri, un capitano e fanteria, un tenente, due professori e un reduce dal domicilio coatto. Sunto della conversazione. Il paese è mal coltivato. Potrebbe rendere di più. L'ignoranza non diminuisce sensibilmente. Le ferrovie non sono, lo dicono loro però, ancora sufficienti. La sicurezza è completa da molti anni. Gli albanesi vanno perdendo rapidamente usi, costumi, isolamento. Accadono matrimoni tra loro italiani. Il loro culto non differisce dal cattolico romano che in qualche dettaglio. Anche la gentetta parla ora anche l'italiano. Le biciclette sono sconosciute. Non credono che uno passi qui per un suo di porto, ma solo a scopo di lucro. E' povero Turing se aspetta i lucri della mia spedizione. Il contadino vive abbastanza bene. E allora come si spiega l'emigrazione divenuta una vera calamità? I ricchi non spendono nulla. La malaria diminuisce. Le condotte d'acqua diventano più numerose. Tutto si aspetta dal governo, meno dal comune. Perché i contribuenti maggiori sono consiglieri. Mi predicono che l'indomani mi sarà impossibile arrivare al Lago Negro perché la montagna è troppo alta e c'è di mezzo la dirupata. Impossibile, pensavo fra me. Napoleone ha detto che questa parola esiste solo nel dizionario degli imbecilli. E con questo benevolo apprezzamento dei miei interlocutori vado a letto.